Lei è quello che si candida al Senato? Sì, sono io. Sì. Lei vota nello Stato di New York? A lei sembro di New York, forse. David! Devo andare. Scusi. Chi era? Non lo so. Ti sfido! Mi sfidi con quelle scarpe! Che succede? Noi ci accertiamo che tutto si compia secondo il piano. Monitoriamo tutto il mondo. Non puoi scappare dal destino, David. Hai sbirciato dietro una tenda di cui non dovevi neanche accorgerti. Questo è il tuo piano e noi vogliamo che resti così. Oggi hai conosciuto una donna. Scolleresti gli occhi dalle mie gambe? Quella gonna non mi lascia scampo. Che c'entra a lei con tutto questo? Il tuo percorso sulla Terra andava rettificato. Non era previsto che la rivedessi. Se tu la ami davvero, stanne lontano. Restare con lei non ucciderà solo i tuoi sogni, ma anche i suoi. Qualunque cosa facciata non mi arrenderò! Stanno scappando. Che sta succedendo? Fidati di me. Ok. Tutto quello che ho sono le scelte che faccio. E io scelgo lei. Abbiamo provato ad essere ragionevoli con te. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.